Quante volte ho provato a immaginare Villa Franca, Saponara. Per me che frequentavo Messina e che mi ero innamorato di quella città, di quella provincia e quindi coltivavo una grande rabbia nei confronti di quella cartolina illustrata che diceva città babba, cioè una terra capace davvero di assorbire come una spugna qualunque verità. Di cancellare, di sminuire, di arrotondare qualunque spigolosità, qualunque criticità. Tutto finiva nelle sabbie mobili di una informazione molto narcotizzante e di una politica sempre con la testa dall'altra parte. Invece Villa Franca e Saponara erano la scena di un delitto. E quante volte mi sono portato in giro nel mio peregrinare la fotografia di questa ragazzina, Graziella Campagna, di questa persona incapace di fare del male, una persona dentro la sua vicenda familiare, dentro il suo lavoro, con quegli occhi, con quei capelli, una ragazzina buona, una ragazzina vivace, eppure una ragazzina rapita, sequestrata, uccisa, quei cinque colpi di lupare, a quel colpo che le sfregia il viso. Quante volte ho avuto la sensazione di vivere di fronte all'immagine di Graziella Campagna. quella idea che si poteva archiviare, la pratica di Graziella Campagna, con qualche sentenza sbrigativa, con qualche non luogo a procedere, con qualche allusione, forse a una vita leggera, spericolata di una ragazzina come tante, invece no. Graziella Campagna era stata rapita, sequestrata, uccisa dalla mafia, da Cosa Nostra, da un pezzo rilevante di Cosa Nostra, ed era stata rapita, sequestrata, uccisa da molti complici, da una omertà diffusa e da una complicità anche di tipo istituzionale. Per questo non doveva emergere la verità su Graziella Campagna. Ricordo una notte, nelle campagne del messinese, quando ho conosciuto, in forma un po' clandestina, questo giovane carabiniere, Piero Campagna, che mi ha raccontato con le sue parole e con il suo sguardo una storia che io avevo imparato a memoria, studiando carte, ritagliando pezzettini di verità, provando a metterli insieme con l'aiuto delle persone che mi accompagnavano in quel territorio, l'avvocato Ugo Colonna, l'avvocato Fabio Repici, i compagni e le compagne, gli amici e le amiche che avevano lavorato con documenti, con materiali importanti, ma non considerati probatori di fronte a nessun tribunale, che avevano insistito perché si facesse verità su Graziella Campagna. Per me era incredibile. Chi aveva paura di Graziella Campagna? Perché la morte violenta di una ragazzina di 16 anni, di una stiratrice della lavanderia, di un paesello sperduto nella provincia di Messina, faceva così paura. Perché la vicenda che la porta a morte è legata a un atto abbastanza ingenuo, infantile, la scoperta della vera identità di chi aveva portato in lavanderia un capo d'abbigliamento perché fosse lavato. In quel capo d'abbigliamento però c'era un documento che rivelava la vera identità di quella persona, latitanti della cupola di Cosa Nostra, che magari insieme ad alcuni carabinieri e sotto protezione di alcuni magistrati erano lì, in una specie di nido accogliente. Quindi la frase di quella ragazzina, l'esclamazione che dice, ma quello non si chiama così, si chiama Gerlando Alberti Junior. Quella frase diventa la condanna a morte di Graziella Campagna. Scusate, io vi sto dicendo in queste forme improprie, parlando attraverso un video, quello che voi sapete tutti quanti meglio di me, ma che per me ha costituito per alcuni anni una specie di spina dentro la mia coscienza, una specie di ferita aperta nel mio cuore. Quante volte mi sono immaginato, anche ripensando ai racconti di Piero Campagna, il volto e la sofferenza di sua madre. Quante volte ho pensato che in quei paesi che avevano rapidamente sepolto questo cadavere ingombrante, che lo avevano sepolto perché non se ne parlasse più. Che era invece lì giusto tornare per mettere una targa per dire Graziella Campagna, vittima di mafia, uccisa dalla mafia e uccisa dalla complicità di chi ha disonorato il ruolo, il compito, la divisa che doveva servire. Siamo oggi a 25 anni da quell'omicidio, la giustizia con tanto colpevole ritardo ha fatto il suo corso e ha scritto parole di verità. Avrei voluto tanto essere lì con voi oggi, avrei voluto soprattutto abbracciare di persona, l'ho fatto tante volte in maniera indiretta, la mamma di Graziella. Avrei voluto essere lì in una cerimonia importante che si svolge nella cittadina di Graziella, a Villa Franca. Tante volte le commemorazioni in Sicilia si fanno in trasferta, si fanno, diciamo, aggirando i luoghi in cui è importante parlare di queste cose. Là, in un lembo non molto conosciuto della provincia di Messina, ci fu un delitto straordinariamente feroce e un delitto indicibile perché svelava verminose complicità. Ecco, possiamo onorare la memoria di questa adolescente che non aveva nessuna intenzione di essere un'eroina della lotta alla mafia, che mai probabilmente era stata sfiorata dal pensiero che una lupara poteva sfregiare il suo viso di adolescente per una ragione assolutamente casuale. Ecco, sono lì con voi, amici e amiche di Villa Franca, di Saponara, di Messina, della Sicilia, perché Graziella Campagna è davvero un simbolo che ci parla del futuro, non ci racconta solo il buio del passato. Quando vedete quella fotografia che hanno pubblicato anche i giornali della sua faccia ragazzina, pulita, bella, e vedete la luce che c'è in quegli occhi, potete capire che Graziella Campagna annuncia davvero, col suo sacrificio e con il nostro ricordo, la luce di un futuro migliore.